Un'azienda che si occupa della vendita di macchinari agricoli è nata da mio padre nel 1966 nel 2001 siamo diventati srl e ancora dopo quasi 50 anni siamo qui a vendere macchine agricole. Ci occupiamo di vendere macchinari agricoli tutto quello che concerne l'agricoltura l'acquisizione nel 2011 dei trattori Kubota che è un marchio poco conosciuto nel panorama nazionale ma conosciutissimo nel panorama mondiale un marchio di grandissima qualità siamo concessionari esclusiva per quasi tutta la Toscana Lazio e Sardegna degli impianti oleari aziendali poi spaziamo in tutto quello che concerne l'agricoltura e il giardinaggio la nostra filosofia più che l'obiettivo è quello di servire il cliente nel migliore dei modi con la massima professionalità con la massima onestà per noi è molto più importante veramente la soddisfazione del cliente ma non è una frase fatta ma è veramente quello che sentiamo nel cuore fare la differenza nelle piccole cose ora è anche un location di live a fare la differenza delle persone che anche non è una cosa che si non è molto più importante